buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di pano tv oggi è mercoledì 25 ottobre 2023 vediamo subito abbiamo tante notizie oggi sui giornali resto il carlino corriere adriatico quindi cominciamo subito a sfogliare le pagine ma non prima di aver visto chi si festeggia oggi oggi si festeggiano due santi li vediamo qui nella grafica sono i santi crisante ed aria erano marito e moglie due sposi che vissero all'epoca dell'impero romano nobili romani anch'essi che abbracciarono la fede cristiana e come tanti altri martiri furono scoperti e furono condannati a morte dopo vari tormenti in prigione furono lapidati lapidati nella via salaria appunto nei pressi della città dopo aver subito numerosi tormenti i santi crisanti ed aria ed ora passiamo ai tempi nostri e vediamo le previsioni del tempo oggi come nella giornata di ieri il tempo è leggermente migliorato i cieli sono in prevalenza poco nuvolosi per tutta la giornata salvo qualche addensamento pomeridiano i venti saranno al mattino moderati al pomeriggio tesi il mare poco mosso le temperature 15 la minima 23 la massima ed ora abbiamo qui sulla nostra scrivania il resto del carlino lo apriamo e siamo nella pagina di fano l'apertura l'apertura è dedicata ad una conferenza stampa che si è svolta ieri mattina nella sala della concordia del palazzo comunale di fano si è presentata la manifestazione di halloween halloween ormai diventata una festa canonica anche per il nostro territorio una festa che coinvolge in modo particolare i ragazzi ovviamente più propensi a scambiarsi dolcetti scherzetti e qualche intemperanza intemperanza che ha avuto un eccesso nel 2020 e tutte le iniziative che sono state presentate nella giornata di ieri intendono superare quel momento che è stato un po' critico per cercare di divertirsi tutti insieme in maniera sana in maniera giocosa halloween sant'orso si riscatta sarà una festa terribilmente sana appunto il titolo richiama quanto è avvenuto in quel momento è stato presentato ieri il cartellone degli appuntamenti previsti nel quartiere che in passato fu teatro di disordini rafforzati ad ogni buon conto i controlli di sicurezza tra le 23 attività ci sarà cinema all'aperto e caccia al tesoro dunque 23 appuntamenti sono tanti e sono tante anche le associazioni che parteciperanno a questo pomeriggio che sant'orso vivrà in maniera intensa ma non è una festa di quartiere è una festa che coinvolgerà tutta la città ebbene ebbene si tratta di iniziative tra cui spicca questa caccia al tesoro che è già stata promossa perché già ci sono alcuni gruppi alcune associazioni che si sono iscritte e sarà una bella cosa e poi ci saranno tante altre iniziative ci sarà una cena food truck davanti alla scuola e la novità di quest'anno è il cinema all'aperto con un film disney incanto che sarà proiettato alle ore 19 e 30 appunto nel quartiere appunto il giornale poi evidenzia ancora altri particolari che sono stati resi noti ieri durante la rasse la conferenza stampa vediamo le altre notizie una notizia drammatica ma con esito fausto viene pubblicata in apertura nella seconda pagina un infarto un infarto accolto ieri un componente che partecipava al consiglio diocesano un uomo di 69 anni di fossombrone improvvisamente si è accasciato a terra ha avuto un malore ma la prontezza di coloro che erano presenti che hanno praticato subito un massaggio cardiaco e poi il pronto intervento degli operatori del 118 che avevano con loro il defibrillatore li hanno salvato la vita quindi il defibrillatore ancora una volta un elemento essenziale per soccorrere le persone colte da infarto e questo viene sottolineato dal dottore alberto caverni di fano cuore che è uno dei massimi propugnatori della diffusione di questi strumenti dei defibrillatori dove ci sono comunità dove ci sono luoghi di raduno dove ci sono punti particolarmente critici importanti ecco perché questa questa vicenda si è risolta agli etofine invece c'è stato veramente di che lamentarsi per quanto è venuto ad una coppia ad una coppia che vive in irlanda si tratta di massimiliano merli che è originario di bellocchi e dal 2001 è immigrato a middleton middleton è una località in irlanda dove è intervenuto un violento fortunale un violento e nubifragio che ha distrutto tutto ebbene questa coppia marito e moglie hanno perso tutto quello che avevano in casa e dismesso l'orgoglio cosa hanno fatto hanno lanciato un appello aiutateci dateci qualche soldo per poter ricominciare la vita perché noi abbiamo perso tutto ad ecco punto l'appello che pubblica oggi il resto del carlino il fanese commercia all'estero prodotti tipici italiani e torna spesso in città dove è abbastanza conosciuto giriamo la pagina e siamo a Gimarra ebbene una interrogazione una interrogativa una interrogazione è stata inoltrata dall'amministrazione comunale al ministero per dire sono ancora disponibili quei 20 milioni che erano stati assegnati per realizzare il collegamento Fano Pesaro e che poi noi abbiamo investito nella conclusione della della dell'interquartieri a Gimarra ebbene questo interrogativo è importante e importante soprattutto per ricevere una risposta perché al momento le offerte che hanno presentato le dite che hanno partecipato all'appalto per realizzare questa grande arteria è stata messa in stand by è stata congelata lì non le buste non sono state aperte lo saranno quando dal ministero quando dal governo giungerà una risposta sono ancora in tempo e ancora in tempo il comune di Fano per ricevere quei 20 milioni ebbene l'amministrazione ha scritto al MIT per chiedere conto del finanziamento intanto le offerte restano congelate piazza marcolini sarà pronta a gennaio il tratto distintivo sarà la fontana quella fontana che avevano realizzato gli studenti della poloni che era che era stata per tanto tempo nei giardini di piazza amiani ora è stata smaltellata è stata sostituita dalla fontana di vangi e questa fontana sarà ricollocata davanti a palazzo marcolini che per tanti anni ha ospitato all'istituto d'arte vediamo qui lo scheletro della fontana in questa fotografia vediamo questa ossatura di legno che circonda appunto la vasca il tutto sarà pronto per il prossimo anno gennaio 2024 è la scadenza che ha così preventivato l'assessore ai lavori pubblici barbara marcolini barbara brunori scusate insieme da 68 anni anche dal parrucchiere e questa è una bella storia una bella storia che ci viene raccontata da sant'ippolito marito e moglie si sono conosciuti da adolescenti sono stati sempre insieme sono voluti bene una bella vita una bella vita così normale condotta tra alti e bassi come la vita che hanno tutti però unita da un grande calore affettivo e quindi 68 anni sono una bella una bella un bel anniversario tant'è che questo anniversario viene così definito come nozze di granito per dire che c'è un legame veramente consistente un legame duro e poi i carabinieri continuano i loro incontri per mettere in guardia soprattutto le persone anziane dalla truffa non fate entrare nessuno in casa mi raccomando cercate di non farvi abbindolare da storie che raccontano degli estrani c'è stato un incontro con i carabinieri per scongiurare raggiri e furti l'appuntamento è ancora alle 17 nella sala consigliare di frontone il prossimo appuntamento giriamo ancora la pagina e siamo ad urbino dove si è dato l'addio ad un combattente si tratta di maffeo marinelli un partigiano era in tarda età aveva 98 anni ha condotto una vita intensa soprattutto durante la sua gioventù quando ha fatto parte appunto dei combattenti nella brigata garibaldi l'ultimo saluto a marinelli morto a 98 anni il ricordo dell'ampi quindi veramente una cerimonia sentita a urbino potremo salvarci tutti con il termo valorizzatore è una dichiarazione questa di giuseppe balduini di forza italia che in un contesto urbinate che cosa fa dice non possiamo rimanere indietro di cento anni rispetto a quanto si fa in europa è in europa dove ferve proprio dove si impone il movimento ambientalista ci sono tantissimi termovalorizzatori perché dunque anche da noi questi impianti non possono essere realizzati sarebbe veramente la soluzione per evitare nuove discariche come quella di riceci e secondo secondo balduini non procurare danni all'ambiente vediamo anche questo articolo di centropagina dove si parla dell'istituto omnicomprensivo della rovere di urbania che eccelle negli erasmus days che sono sempre una bella esperienza per tutti gli studenti giriamo ancora la pagina e siamo a peglio peglio non rinuncia alla bellezza continua il sogno di tagliolini guardate che cosa ha dipinto questo artista ha nella facciata di questa casa non so se si vede bene comunque è una quercia una quercia che si inerpica dal terreno e sale su fino al tetto fino a forare quasi il balcone della casa che contraddistingue questa facciata il pittore americo salvatori ha dato il via ad un'idea per il paese da lui condivisa con l'ex sindaco comparso scomparso vi ricordate tagliolini è stato anche presidente della provincia ho dipinto una quercia ha detto salvatori simbolo della ospitalità nell'ex sede dell'acli un luogo che ha molto molto da dire e anche molto da vedere dopo questo bel dipinto vediamo ora la pagina di pesaro dove si evidenzia una polemica una polemica imbastita dal preside franca del santa marta il quale ha lanciato un monito ci sono delle condizioni inaccettabile per i nostri studenti che si affacciano nel mondo del lavoro quella della professione dei camerieri i ragazzi che non riescono a così a mostrare la loro professionalità che vengono sottopagati magari sottoposti a turni di lavoro che sono veramente gravosi però a contrasto di queste di queste dichiarazioni c'è quello che dice il presidente di apa dell'associazione albergatori che è costantini costantini dice che quello che ha detto franca non è accettabile agli operatori serve professionalità cosa sempre più difficile da trovare gli istituti dovrebbero essere in grado di formare ragazzi competenti riservando il giusto spazio alle materie professionalizzanti quelle proprio che imparano la professione imparano come trattare i clienti il cliente deve essere coccolato deve essere accarezzato deve essere blandito perché possa fidelizzarsi in modo che possa tornare che possa gradire l'accoglienza ricevuta e quindi fare promozione perché la miglior promozione non è quella delle fiere oppure quella dei gemellaggi ma è quella del passaparola così come dicono gli stessi operatori giriamo ancora la pagina e vediamo che a pesaro si procede con la pulizia dei tombini ci sono problemi per quanto riguarda dei parcheggi al limite delle strade che impediscono i macchinari di intervenire però insomma tombini polizia al contrario si inizi da pantano ci sono anche problemi per quanto riguarda il punto da cui si deve cominciare è il consiglieri di quartiere che ovviamente difende il suo territorio si tratta di val di noci di fratelli d'italia che contesta non è furbo intervenire prima a valle e poi a monte non si ragioni in base al traffico ma in base alle necessità questo secondo appunto val di noci doppio processo per carriera carriera è veramente sempre in mezzo ai problemi problemi giudiziari ma lui però insomma si dibatte si difende difende le sue tesi in maniera molto determinata ebbene questa volta è stata chiesta una condanna di quattro mesi nei suoi confronti per aver diffamato il presidente provinciale della conf commercio amerigo varotti comunque il giudice ha disposto il rinvio della sentenza ma il ristoratore delle proteste al tempo del lockdown del 2020 avrebbe avrebbe detto che varotti sarebbe stato un elemento di ignoranza fuori del comune ovviamente varotti si è risentito e lo ha querelato ieri rispondeva a carriera anche di simulazione di reato per minacce inventate minacce che sarebbero state diffuse nei social e che poi gli inquirenti hanno capito che proveniva da un sito che faceva riferimento allo stesso carriera quindi si sarebbe lui stesso così autodiffamato autodenunciato ma poi ovviamente il processo deve proseguire vediamo anche un altro articolo addio al porta a porta nella ztl a pesaro dove è stata introdotta questa nuova raccolta per i rifiuti dal 2024 solo eco isole in tutto il centro storico veramente una riforma strutturale che dovrebbe efficientare la raccolta dei rifiuti nel capoluogo chiudiamo il resto del carlino e apriamo adesso il corriere adriatico vediamo il titolo di apertura è un titolo di cronaca un titolo di cronaca che rievoca una vicenda una vicenda che è accaduta a terre roveresche nel marzo del 2022 mi ha violentata e picchiata più volte l'ex fidanzato di 26 anni davanti al guppe la denuncia è di una 25enne fanese il giudice però respinge la richiesta di ricorso alla giustizia riparativa che aveva presentato l'avvocato difensore appunto dell'imputato un luogo isolato nel buio in macchina lei lo accusa di averla violentata dopo la discoteca poi le minacce e le botte ieri davanti al giudice per le udienze preliminari si è presentato il caso di una 27enne di un 27enne l'uomo di fossombrone e della sua ex ragazza una 25enne fanese che ha sporto querela che cosa è accaduto è accaduto che dopo la discoteca i due si sono ritirati in macchina lui magari aveva alzato il gomito e avrebbe iniziato ad assumere atteggiamenti sempre sempre più violenti tanto da strapparle i jeans di dosso e timorita da questo ovviamente da questo comportamento lei le avrebbe detto di smetterla ma lui avrebbe continuato e poi se secondo l'accusa sarebbe stato sempre più violento poi sarebbero violati anche degli schiaffi qualcosa anche di più insomma la ragazza impaurita alla fine con dei segni per le violenze subite lo ha denunciato e allora che cosa è accaduto il ragazzo si è presentato insieme al suo avvocato davanti al giudice e ha chiesto di poter accedere alla giustizia riparativa che cos'è la giustizia riparativa si tratta di un nuovo istituto previsto dalla riforma cartabia che prevede l'obbligo per l'autore del reato di rimediare alle conseguenze lesive della sua condotta a tal fine serve però il coinvolgimento attivo della vittima per trovare insieme soluzioni per rispondere ai bisogni che sono scaturiti dal reato con un risarcimento economico comunque il giudice non ha concesso questo istituto all'imputato che ora dovrà seguire il normale iter giudiziario e poi c'è un'altra vicenda che all'epoca ha fatto storie nelle croneche fanesi si tratta di uno studente che frequentava l'istituto Olivetti siamo in tempi di pieno covid allora c'erano delle severe disposizioni perché i ragazzi in classe tenessero la mascherina ebbene questo ragazzo Valerio Tellenio studente appunto dell'Olivetti di Fano nel maggio del 2021 era stato prelevato con forza in base ad un TSO dalle forze dell'ordine e portato in ospedale perché perché si era incatenato al banco e non voleva mettere la mascherina in questo si ispirava ad un costituzionalista che era Lamberto Roberti che è stato ugualmente portato davanti al giudice il giudice però questa volta ha assolto entrambi il ragazzo perché insomma non avrebbe commesso reato e anche il costituzionalista perché insomma non avrebbe influito di maniera decisiva il comportamento del giovane il PM aveva chiesto 30 giorni di condanna e la soluzione per Roberti il giudice però ha assolto entrambi vediamo che anche il Corriere Adriatico si occupa di Halloween dalla guerriglia al riscatto sociale dal 2020 al 2023 per una festa che l'ha insomma ha creato qualche turbativa ci sono stati poi atti di vandalismo esuberanza eccetera invece questa volta dovrebbe condursi tranquillamente come poi si è condotta tranquillamente quella dell'anno scorso. Disabile accolto dopo mesi nel centro educativo c'è stata anche la soluzione della vicenda del giovane che aveva scelto di entrare in un centro educativo ma il comune aveva detto di no lo scegliamo noi insomma il disabile non è abilitato a scegliere in realtà il caso si è risolto anche con una dichiarazione di replica dell'assessore al welfare di comunità Dimitri Tinti. A Fossombrone la sinergia tra tre comuni per valorizzare le cesane. Fossombrone, Urbino e Isola vogliono comprare la baita un sentiero per i disabili. Le cesane sono un bellissimo contesto ambientale e quindi tre comuni insieme per valorizzare. Sappiamo come il turismo dell'entroterra non si basa soltanto sulla cultura, sull'enogastronomia ma anche sull'ambiente perché veramente le nostre colline sono un paesaggio eccezionale che attrae tantissime persone. E poi ieri c'è stato un convegno a Fano nella sala di rappresentanza della Carifano della Fondazione Carifano inserito anzi nel programma delle iniziative di Ottobre Rosa il mese dedicato alla sensibilizzazione per la prevenzione delle malattie tumorali al seno, il tumore al seno. C'è stato un incontro che ha parlato della scrittura come elemento terapeutico per coloro che sono state colte dal tumore al seno. E ci sono state due persone, due donne, due signore che hanno avuto questa malattia e che invece di compiangersi, invece di disperarsi hanno trovato nella scrittura, una in un romanzo, in un libro l'altra in una poesia, il fatto di superare questo momento difficile della loro esistenza. Bene, superare è una parola difficile, una parola grossa perché nel momento in cui l'hanno ricordato entrambe ieri sono ancora commosse, si sono viste le lacrime spuntare dai loro occhi perché questa è una vicenda che ferisce nel cuore, che ancora tiene banco, che ancora provoca una profonda ferita. Ebbene, una scrittura terapeutica, una scrittura che con la parola riesce a trasmettere ad altri e così facendo il proprio dolore, la propria emozione, così facendo si supera anche questo stato angoscioso della propria vita. L'etrosmog rischioso per la salute a Mondolfo. Gli esperti vogliono abbassare i limiti. C'è l'antenna del 5G a Mondolfo, un biologo del CNR, sulla lettera appello firmata da lui altri 71 scienziati interviene e dà ragione a Jacopo Zuccheri di scrivere questo articolo. Ieri ci sono state comunque due ore di assemblea a Mondolfo per ribadire il no alla nuova stazione radiobasi di via Costa. Lunedì sera i residenti del centro storico che abitano in prossimità di questo maxi impianto hanno incontrato nel salone di Sant'Agostino gli esperti che hanno annunciato siamo pronti ad iniziative legali. Ebbene, è un percorso difficile da percorrersi, ma è un percorso che deve essere fatto perché altrimenti c'è un proliferare selvaggio di questi impianti lesivi dal punto di vista ambientale con un punto interrogativo da quello della salute. L'ospedale di Pergola è conforme al decreto 70, lo dice l'assessore Salta Martini che risponde al Partito Democratico, potenzialmente anche a Cagli, Fossombrone e a Sasso Corvaro per quanto riguarda queste strutture sanitarie. Vediamo anche Senigallia. Senigallia, Palazzo Gerardi, restyling, beffa, manca lo spazio per l'ascensore, il sindaco Livetti interviene, la vecchia giunta ha venduti locali che sarebbero serviti per installarlo e ora non abbiamo lo spazio sufficiente per realizzare questa importante struttura per rendere pienamente agibile il palazzo. Come si farà? È un punto interrogativo. E noi lasciamo sospeso questo interrogativo perché abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. Terminiamo qui la nostra rassegna stampa e vi do appuntamento domani alle 7. Grazie per l'ascolto. A risentirci. Grazie per l'ascolto.